Parliamo di calcoli alla cistifelea, è possibile evitare l'intervento chirurgico cambiando il nostro stile di vita? Insomma, tante domande risponderà il dottor Alfonso Avoglio, medico chirurgo dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale di Trapianto di Feigo presso il Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuto dottor Avoglio. Allora, iniziamo subito a inquadrare che cos'è la cistifelea, che ruolo ha, che funzione ha la cistifelea. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Abbiamo qui un piccolo modellino in cui è raffigurato il fegato e subito sotto il fegato questo sacchetto verde che è un vero e proprio serbatoio. Possiamo dire che è un serbatoio finalizzato per la digestione. Infatti qui sotto c'è un condotto che poi fa sì che la bile che il fegato produce e che va nella cistifelea viene ad essere immessa nell'intestino facilitando e promuovendo la digestione nelle sue varie fasi. Per cui è un piccolo organo che si trova proprio al di sotto del fegato e serve appunto per raccogliere la bile prodotta dal fegato, come ci sta spiegando il dottor Avoglio. Adesso rispondiamo un po' ai nostri telespettatori perché come ho detto è un problema talmente tanto comune che riguarda tanti di voi i cosiddetti calcoli alla cistifelea. Allora rispondiamo dottor Avoglio a Gemma che ci scrive dalla provincia di Savone e ci chiede l'interno degli occhi e la pelle hanno un colorito giallo. Potrebbe dipendere dalla cistifelea? Allora, è bene entrare un po' nel dettaglio. Il colorito giallo della parte intorno all'occhio, la sclera e anche della pelle si chiama ittero ed è un segno caratteristico di un problema del fegato. Nei pazienti che già sanno di avere i calcoli e comunque c'è una diagnosi di calcolo è un segnale di grande attenzione e di allarme perché vuol dire che c'è un problema maggiore. Vuol dire che un calcolo che prima era presente soltanto nel sacchetto si è impegnato in questa parte finale e ha creato una ostruzione. Per questo motivo la bile che il fegato normalmente produce e che deve andare verso l'intestino trova uno stop e va nel sangue e siccome la bile ha dei pigmenti questi pigmenti danno il colorito giallo degli occhi, delle mucose e anche della pelle. E questo sicuramente è uno dei primi sintomi. Probabilmente la situazione magari può essere già un po' allarmante. Ci sono altri sintomi che ci dà il calcolo alla cistifelea? Sì, mi permette di perfezionare un attimo il messaggio che è già corretto, sia chiaro. Non è proprio uno dei primi sintomi l'ittero. L'ittero è un sintomo di situazione un po' più complessa e avanzata. I primi sintomi invece sono un po' il dolore ma prima ancora la digestione un po' pesante, un po' fastidiosa tant'è che alcuni la riconoscono e altri no. Un conto è avere una digestione in cui si riesce, alcuni dicono a mangiare le pietre e invece altri hanno già piccoli problemi quando per esempio mangiano un pasto un po' più impegnativo. Questo perché? Perché nel passare dei nostri alimenti all'interno della prima parte dell'intestino, cioè il duodeno si innesca un meccanismo ormonale che stimola la colicisti. Se la colicisti non riesce a essere efficace e a contrarsi si hanno i primi disturbi e poi si è il vero e proprio dolore. È questo, è il dolore. Allora, se ci troviamo di fronte, dottora Voglio, ad una colica renale diamo dei consigli pratici. Come ci dobbiamo comportare? Allora, prima di tutto bisogna consultare un medico perché per quanto se ne parli tanto è bene confrontarsi e avere delle indicazioni specifiche. La prima cosa chiaramente da fare è quello di utilizzare dei farmaci che si chiamano antispastici cioè che tolgono o perlomeno riducono la quota di spasmo, di contrazione per mettere un po' a riposo questo organo che ha una funzione appunto di contrarsi. Quando questo non è efficace possono essere utili sempre su consiglio e gestione medica degli antidoloriferi che però possono essere anche pericolosi perché possono nascondere una progressione della situazione. Ci sono delle cause? Noi adesso diremo, parleremo molto di alimentazione, di stile di vita che è fondamentale, ma ci sono delle cause preponderanti rispetto ad altre? Sì, sicuramente ci sono degli aspetti, dei fattori veri e propri genetici che penalizzano alcune persone più di altri e penalizzano più il sesso femminile, il sesso femminile delle donne che hanno partorito perché in queste condizioni il sistema ormonale è un pochino spiazzato e si ha da una parte un maggior assorbimento di alcune sostanze che alla fine hanno all'interno il colesterolo e dall'altra parte c'è un alterato metabolismo dello stesso, per cui questo è il primo elemento. Poi chiaramente conta molto sia l'alimentazione che le abitudini di vita collegate all'alimentazione perché la colicisti ha bisogno di un'attività regolare quindi noi dobbiamo evitare situazioni in cui per un periodo si ha una grande attività e poi ci sono tantissime ore in cui la colicisti è ferma o ancora peggio, avere dei periodi di dieta magari di una settimana o di 15 giorni in cui non assumendo alcun alimento o assumendone pochi la colicisti è molto ferma e comporta una sedimentazione della bile. Parleremo appunto anche di abitudini, di stile di vita perché insomma il digiuno non va bene assolutamente per chi soffre di calcoli alla cistifele. Allora per evitare l'intervento chirurgico, la maggior parte delle volte insomma si deve intervenire chirurgicamente, lei un po' ha anticipato ci sono dei farmaci, gli antispastici però per evitare questo, per evitare l'intervento chirurgico ci sono altri farmaci che ci permettono magari di ridurre di frantumare il calcolo che ci sta dando fastidio, professore? Negli ultimi 30 anni c'è stato un grande sforzo per cercare di identificare un farmaco in grado di sciogliere i calcoli devo dire che letteralmente questo non si è ancora riusciti a farlo perché si riesce a sciogliere o perlomeno a ridurre un tipo particolare di calcolo che è quello di colesterina pura purtroppo questo calcolo poi viene ad essere ricoperto da altre componenti e questo fa sì che l'effetto di questi farmaci è un pochino limitato un'altra cosa invece è prevenire in alcune particolari condizioni che possono essere genetiche o anche dopo un intervento chirurgico particolare per esempio il caso degli interventi di chirurgia bariatrica in cui c'è un alto rischio che si possono formare dei calcoli e allora in quel sottogruppo di pazienti effettuare un trattamento preventivo efficace Allora adesso ci dobbiamo fermare professore una piccolissima pausa pubblicitaria poi torniamo qui in diretta perché parleremo di intervento chirurgico che cosa significa asportare la cistifelia ma non solo parleremo di quali sono gli alimenti che danno fastidio proprio alla nostra cistifelia tutto questo dopo una brevissima pausa pubblicitaria restate con noi Bentornati, bentornati in diretta siamo in compagnia del dottor Affonso Avoglio stiamo parlando di calcoli e la cistifelia è un problema molto comune adesso parliamo dello stile di vita, dell'alimentazione ci sono degli alimenti che potrebbero dare dei problemi a chi soffre a chi è predisposto ai calcoli e alla cistifelia? Dobbiamo distinguere ci sono gli alimenti che contengono in qualche modo colesterolo che è il punto debole del sistema e chiaramente assumendo tanti di questi alimenti noi aumentiamo il colesterone e il sangue aumentiamo il rischio che si possano accrescere dei calcoli oppure formare dei calcoli in delle persone che sono a rischio e quindi l'opinione comune già sa tantissimo di questo basta pensare a tutti i grassi quindi sono i formaggi grassi e ci sono tanti livelli di formaggi grassi alcuni sono veramente tanto grassi e altri sono lievemente grassi e lo stesso vale per i salumi ma anche per il latte il latte intero è chiaramente molto più ricco di colesterolo di quanto non lo possa essere il latte scremato o addirittura il latte punto certo l'acqua è l'alimento in assoluto libero da questo poi però ci sono degli alimenti che in ogni caso stimolando la contrazione della colicisti e quindi qualsiasi pasto qualsiasi pietanza complessa elaborata che innesca un meccanismo nei pazienti normali non crea un problema ma nei pazienti che hanno i calcoli stimola la formazione della colica perché bisogna fare attenzione allora quando tutto questo lo stile di vita l'alimentazione non porta ad alcun giovamento bisogna intervenire chirurgicamente allora come si effettua l'asportazione della colicisti e che cosa significa vivere senza questo piccolo organo? Allora la colicisti è in una posizione tutto sommato abbastanza accessibile e quindi già da oltre 140 anni i chirurghi si sono cimentati nel cercare inizialmente di fare un taglietto e togliere i calcoli e richiudere questo era l'intervento che si faceva nel 1880 poi si è visto che a volte questi punti non tenevano ma soprattutto togliendo i calcoli non avevano risolto il problema quindi già dieci anni dopo prima del cambio del secolo già erano stati fatti degli interventi in maniera efficace di asportazione chirurgica della colicisti e i pazienti dopo questo intervento stanno molto molto meglio ma perché non hanno le coliche? non hanno le coliche voglio dire è in anestesia generale la paroscopia come si effettua? l'intervento per anni lo si è fatto in anestesia generale e in chirurgia open cioè aprendo l'addome da circa 25 anni si fa molto bene in la paroscopia che adesso costituisce lo standard è un intervento di circa 50-55 minuti con una degenza postoperatoria di 24 qualche volta 36 ore ed è anche socialmente sostenibile perché nel giro di 4-5 giorni si può riprendere l'attività si può riprendere le attività ma deve seguire una dieta particolare il paziente senza colicisti? nell'immediato postoperatorio ovviamente bisogna fare delle attenzioni ed evitare alcune cose in particolare di mangiare in maniera copiosa dopo praticamente bisogna fare una vita normale è ovvio che qualcuno pensa di avere un motore nuovo e ricomincia poi a fare abuso di quelle stesse sostanze di quelle pietanze che magari avevano comportato sia i calcoli sia l'ecolica grazie grazie di cuore al dottor Affonso Voglio grazie per averci dato questi suggerimenti e questi consigli adesso voltiamo pagina pariamo